Il ritiro del secco verrà effettuato una sola volta a settimana a Sulmona per i prossimi quattro mesi e la nuova disposizione della calendarizzazione della raccolta rifiuti comunicata oggi a seguito della seluta l'ecomirato tecnico di valutazione per la gestione del servizio rifiuti. Da giugno a settembre Coggesa ritirerà il secco residuo dei residenti di Sulmona solo e unicamente nella giornata di giovedì, eccezion fatta per questa settimana, il cui ritiro è confermato il 2 giugno. Nei mesi da giugno a settembre 2023 sono quindi mantenuti quattro passaggi mensili e conseguentemente nel periodo estivo saranno effettuato otto passaggi in più rispetto a quanto precedentemente calendarizzato. Si conferma alta quindi l'attenzione dell'amministrazione comunale, spiegano da Palazzo San Francesco a livello dei servizi erogati alla cittadinanza che vedrà notevolmente ridotti i possibili disagi legati a servizio di raccolta. Sempre da via Mazzara raccomandano che un'attenta e corretta raccolta differenziata e buon uso del centro raccolta determinano una netta riduzione del secco residuo, pertanto la prospettiva di una riduzione del passaggio di raccolta della frazione secca non deve essere vista come una riduzione del servizio ma piuttosto come stimolo a diminuire la produzione di rifiuti ed aumentare la raccolta di rifiuti.